Sabato 24 aprile è convocato il Consiglio Comunale di Agropoli in prima convocazione presso l'Aula Consigliare del Comune. Trattazione dei seguenti argomenti, interrogazione ed interpellanza del consigliere Agostino Abate al Sindaco sulle condizioni di sicurezza di via Malagenia. Interrogazione ed interpellanza del consigliere Giuseppina Botticchio al Sindaco sull'adesione del Comune di Agropoli all'Unione dei Comuni. Terzo punto ancora un'interrogazione ed interpellanza della consigliera Giuseppina Botticchio al Sindaco sulle condizioni di sicurezza della strada provinciale via Fontana dei Monaci. Ancora un'interrogazione della consigliera Giuseppina Botticchio al Sindaco sull'intitolazione di una strada o piazza al compianto Sindaco di Pollica Angelo Vassallo. Al quinto punto l'interrogazione ed interpellanza del consigliere Mario Pesca al Sindaco sull'intitolazione di una strada, piazza o altro luogo pubblico al compianto Avvocato Gianni Agnelli. Al sesto punto interrogazione e richiesta del consigliere Mario Pesca al Sindaco relativa alla sospensione del pagamento del parcheggio nelle strisce blu per l'intera città di Agropoli. Settimo punto interrogazione e richiesta del consigliere Mario Pesca al Sindaco per proposta di intitolazione di piazza Vittorio Veneto di Agropoli al compianto Professor Paolo Serra. Ottavo punto interrogazione e richiesta del consigliere Mario Pesca al Sindaco di programmare gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Nono punto approvazione dei verbali della seduta precedente, poi presa d'atto del PEF rifiuti anno 2020 e determinazione in merito al conguaglio Tari 2020. All'undicesimo punto si discuterà il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nel triennio 2021-2023. Al dodicesimo punto l'approvazione del regolamento comunale per la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia edilizia e paesaggistica. Infine l'ultimo punto, il tredicesimo, prevede l'approvazione del programma biennale acquisti di beni e servizi 2021-2022. Qualora tale seduta dovesse andare deserta, il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli il giorno 26 aprile 2021 alle ore 9.30 per discutere lo stesso ordine del giorno.